La importante tecnica di manipolazione che utilizza il narcisista è quella della tecnica confusionale cioè il narcisista ti genera confusione ti genera confusione attraverso ad esempio il gaslighting che è un'altra tecnica manipolativa usata dal narcisista che fondamentalmente è una tecnica confusionale che mira a farti sentire sbagliata mira a farti sentire una merda mira a farti sentire una persona e quante volte ti sei sentita una merda? pensa un attimino nelle tue relazioni quante volte ti sei sentita sbagliata? quante volte ti sei sentita una merda? ti sei sentita di non valere niente? ti sei sentita di essere comunque inferiore a quest'altra persona? se questo ti è capitato è probabilmente avuto a che fare con un narcisista che utilizzava in quel momento il gaslighting il gaslighting è questa tecnica diciamo così narcisistica se vogliamo che ha la funzione di il gaslighting di farti sentire impotente di farti sentire in che modo agisce il narcisista con il gaslighting beh, semplicemente inizia a creare confusione dentro di te ti accusa di aver detto delle cose che magari tu non hai mai detto però potreste averle pensate allora inizia a confonderti oppure ti accusa di non aver detto lui delle cose che tu gli hai detto che ha detto che invece magari ha fatto, ha detto insomma ti fa sentire ti prende in fallo cerca di coglierti in fallo cerca di farti sentire egoista ti dirà ma tu sei egoista non fai altro che mentire e negare che poi è quello che fa lui perché si innescano questi meccanismi proiettivi quando il narcisista ti dice che ti dice che ad esempio sei così egoista e egoista è lui non fai altro che mentire e negare quello che dici che è quello che fa lui sei instabile che è quello che fa lui è colpa tua se io adesso sono in questa situazione è colpa tua se devo sgridarti è colpa tua se dormo male insomma inizia a farti sentire a darti instabilità devi sempre dire cose false menti continuamente beh uno che ti dice menti continuamente tenendo presente che più o meno tutti voi raccontate delle balle si dice che gli esseri umani più o meno raccontano 20 bugie al giorno quindi uno che ti dice tu mi hai mentito e tu puoi anche sentirlo come vero questa cosa perché sicuramente in qualcosa avrai mentito tutti noi mentiamo costantemente almeno 20 bugie al giorno si raccontano piccole ovviamente non è che devi mentire sui massimi sistemi però diciamo lui ti fa sentire sbagliato ti dice ah fai sempre queste cose bla 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 e poi ti dicono io questa cosa qua non l'ho mai detta io quell'altra cosa là non l'ho mai fatta e quindi nega di aver fatto qualunque cosa poi ti accusa di avere rabbia e magari tu della rabbia ce l'hai perché ti hai fatto girare i coglioni diciamo fino a un momento prima quindi magari la rabbia ce l'hai pure e ti dirà mai più insomma ecco questo cercherà di ridicolizzarti di farti sentire una merda fondamentalmente ecco queste strategie che il narcisista utilizza e utilizza veramente molto frequentemente utilizza veramente spesso diciamo ti fanno sentire una nullità fondamentalmente e e poi ovviamente il narcisista ti dà tensioni con la triangolazione la triangolazione è un'altra diciamo metodo di seduzione ma più che di seduzione di manipolazione che il narcisista usa molto spesso ma di questo poi approfondirò questo concetto perché la triangolazione è un qualcosa di veramente interessante molto particolare ma per adesso seguimi su tutti i miei canali youtube ovviamente seguimi anche su instagram massimo tra maschio ufficiale ci sono molte cose interessanti anche lì seguimi su youtube tutti i miei canali sei canali anche se sei una barbona anche se sei una narcisista puoi comunque seguirmi perché è gratis quindi non devi spendere niente puoi imparare delle strategie molto utili anti-narcisista tra virgolette bene 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 mi fa molto piacere insomma che tutto questo accada